Musica Benvenuti ragazzi Qui è Stepney e benvenuti in questo nuovo video su Battlefield 3 Allora, perché oggi ho deciso di fare una partita a Battlefield? Sinceramente è tanto che non ci gioco Anche se in realtà a causa degli esami Ragazzi sto giocando veramente a pochissimo, a tutte le cose Allora, quando vedrete questo video Oggi avrò appunto la seconda prova d'esame Che è quella di inglese Voi direte Stepney, ci hai baccato il cazzo Ormai non dici altro nei tuoi video Parli solo dell'esame, ci hai rotto il cazzo Minchia quanto vi capisco, vi capisco Ma l'esame ha rotto il cazzo anche a me, ve lo assicuro Intanto ho fatto miliardi di punti sparando a Bambera E... Ma che vi dico questo? Vi dico questo perché oggi Cioè quando sto registrando questo video Mercoledì 19 Sì, è mercoledì 19 Ho già avuto la prima prova E io ho detto che vi avrei parlato in un video di com'è andata Non volevo farvi un video a parte ieri sera Però poi ho detto no Poi mi... Poi mi iniziano a dare del money grabber Visto che ci sono delle persone veramente stupide a giro per la rete Quindi ho detto evitiamo Anche se magari guadagnassi tanti soldi per sopravvivere Ok Com'è andato l'esame, il primo esame di maturità Ovvero la prima prova di italiano Allora sinceramente Pensavo peggio Pensavo un po' peggio Però ero già insomma dell'idea Che comunque sarebbe stato un tema Avrei scelto probabilmente la tipologia B Che è quella dove in pratica sei più libero di esprimerti Ecco E appunto ho scelto Le tracce non erano belle affatto Erano molto brutte Probabilmente se avete amici che hanno sostenuto Che stanno sostenendo gli esami Lo diranno loro stessi Facevano abbastanza cagare Abbastanza defegare Tanto il batardo non muore Vogliono 6.000 colpi Ho fatto la tipologia B Con il tema Tecnico Com'era? Tecnico scientifico Che riguardava in pratica L'importanza di un progetto Che stanno facendo sia in America che in Italia Che stanno facendo nel mondo Scusate Sul cervello In pratica Delle ricerche molto approfondite Sul cervello umano Per appunto Cercare Come obiettivo Di curare delle malattie Mentali Neuronali Come possano essere L'Alzheimer O Epilessia O altri problemi Insomma Un tema del genere Sono riuscito a esprimermi abbastanza bene Senza tanti problemi Durato circa Sono arrivato a scuola alle 8 Abbiamo iniziato l'esame alle 9 Sono uscito alle 1 Quindi Da 9 alle 10 In pratica un'ora Per decidere cosa fare 10-11 11-12 E un pochino di tempo per recuperare Ci ho messo 4 ore circa Quindi abbastanza tempo Per Per fare questo Questo tema Però Credo sia avvenuto abbastanza bene Ancora i risultati non si sanno Però Ovviamente appena saprò i risultati Ve li dirò Perché mi Cioè Vi dico le cose Quindi vi tengo aggiornati su tutto Non è che vi posso dire le cose a mezzo Altra cosa È che Oh cazzo Porca puttana Appunto oggi quando farò la prova d'inglese Non so Non so ancora Non l'ho fatta Quindi ancora non lo so Vi dirò ovviamente anche questo Oh grazie per avermi rianimato Com'è andata? Allora ragazzi Adesso parliamo un pochino di Butterfield 4 Che uscirà Tra non molto Dopo l'estate E tutti sappiamo che Quando ci si diverte il tempo vola Quindi Probabilmente arriverà l'estate Cioè finirà l'estate Non batter d'occhio Ora Che avete dislike? Perché ho detto che finisce l'estate? Vabbè ragazzi Ovvio Non c'è bisogno Ve lo dico io Sì vabbè comunque Tutti in un colpo E i miei cecchini fanno schifo È sempre così Vabbè Comunque Ho visto Avevo già accennato qualcosa Su Butterfield 4 Ho visto i gameplay Che insomma Sono stati registrati Da vari youtuber All'E3 Anch'io sono stato all'E3 Però Non ho avuto modo di registrare No Non è vero Sto scherzando Però mi sarebbe davvero piaciuto tantissimo Ho visto i gameplay E sono rimasto stupito Tantissimo Da 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 tutto quello che hanno fatto Allora Oh cazzo mi stanno sparando Scemo Mamma mia che numeri Mamma mia che numeri Step Numerone questo eh Like per questo numero Ehm Sinceramente da Butterfield 3 Una volta che l'ho comprato A Butterfield 4 Ho detto Cosa potranno inventarsi Vedendo i gameplay Ehm Ho Ovviamente capito che Sono riusciti Nell'intento Ovvero rendere un gioco Quasi perfetto Perché dico quasi perfetto Ora ovviamente Queste sono tutte parole Che potrebbero essere anche parole al vento Perché effettivamente Non l'ho provato Quindi Posso solo dire Quello che ho sentito Dalle altre esperienze Di persone che hanno avuto modo Di appunto provarlo E Visto che erano recensioni positive Di conseguenza Vi do anche una recensione Positiva Cos'è quell'aggeggio? Cos'è quell'aggeggio? Mi si sta muovendo addosso? Cos'è? Cos'è questo aggeggio? Oh mio dio Alla morte Nemico Boh vabbè Ehm Insomma Ho visto un motore grafio davvero Eccezionale Con delle animazioni Ehm Non dico Centomila volte meglio di queste Però Decisamente meglio di queste Perché Ehm Se non sbaglio Ho cambiato il motore Mettendo il Frostbite 3 Ora Io ragazzi Non sono una persona tecnica Lo sapete Mi conoscete Però Cerco di dirvi Tutto quello che so Ehm Per come lo so E spero e penso Che molti di voi mi seguono Anche per tutte le cazzate Per tutte le minchiate che dico E sono fiero di questo Comunque questa partita Sta per finire Dobbiamo arrivare a 100 Siamo 78-77 E' molto equilibrata Molto bene Ehm Quindi ragazzi Come vi aspettate La faccio così Se no Mi si scurisce la faccia Efficienza di fanteria Ehm Io come avevo già detto L'ho ordinato da MediaWorld Quando c'è la promozione Di portare un gioco usato Pagando Solamente 29 euro Quindi Io Battlefield 3 Lo avrò Probabilmente appena esce Subito Per Playstation 3 E potrò Diciamo Portarvi subito Dei gameplay Ho detto Battlefield 3 Perché sono un idiota Probabilmente alcuni di voi Avranno già scritto Step Hai detto Battlefield 3 In realtà è Battlefield 4 Lo so Lo so ragazzi Lo so Scusate Chiedo perdono Però in questi giorni Davvero È stancantissima La situazione Intanto Super kill di Step 83 85 Stiamo vincendo Ehm Quindi lo comprerò Se Se lo volete sapere Lo comprerò Battlefield 4 Perché mi è piaciuto molto Quello che hanno rivelato All'E3 E per tutti coloro Che mi continuano a chiedere Step Mi comprerò Xbox One O Playstation 4 Comprerò Assolutamente Xbox Qua Sì Oddio Sono veramente malato Ho detto veramente Xbox 4 No ragazzi Ho detto veramente Xbox 4 Sono Sono un folle Comprerò La Playstation 4 E non l'Xbox One Per Per Una serie di event Una serie di cose Che Motivi E posso dirvi anche adesso Velocemente In 4 e 4 8 Allora Anzitutto Costa 399 Invece di 499 E già Sono centero in saccoccia Che posso usare Per comprare i bluietti Poi Permette Diciamo La condivisione Dell'usato Cosa che Xbox Non fa Perché c'è il blocco Dell'usato Quindi non puoi condividere i giochi Con i tuoi amici O comunque con altre persone Ed è veramente una cosa merdosa Questa Se mi permetto di dirlo Microsoft Vaffanculo Fai schifo Poi Sarà necessaria Una connessione A internet Per poter giocare A qualsiasi gioco Ora Se dovrà pagare anche Su Playstation 4 Se non ho capito bene L'online Però non penso sia un problema Io non ho mai criticato Xbox Per questa cosa Ho fatto 10-8 Quindi un risultato positivo E poi comunque Il sistema Il processore Che ci sarà dentro Playstation 4 E' migliore Di quello di Xbox E anche la graffia La graffia Si E anche l'aspetto esteriore E' sicuramente migliore Quindi ragazzi Questo video è terminato Io spero vi sia piaciuto Ciao a me Mi piace E se volete Non lo so Condividete il video Iscrivetevi Fate quello che cazzo volete Noi ci vediamo domani Domani? Si domani esce un video stupido Ragazzi eh Mi raccomando Non me lo perdete Dura poco Però è una canzoncina bellina Con me che Pallo Ve l'ho detto Vabbè spoilerato Dai se ne frega Grazie a tutti ragazzi E al prossimo video Buone